dark souls remastered allora quest'opening è meravigliosa siri per favore rispettami era tantissimo tempo che non giocavava una mod dedita alla difficoltà voglio farvi vedere una cosa la scorched che vi consiglio con tutto il cuore di recuperare è assolutamente il top ma voglio farvi vedere una cosa se io apro la pagina della ascent vi faccio vedere un dettaglio è una cosa che mi ha molto colpito io non conosco nulla di questa mod non so niente di nulla a questo punto si chiama blind run per un motivo sono felicissimo che sia così viene scritta così attenzione questa moda è estremamente difficile se non vi piace la difficoltà o combattimenti con disonestà non giocate questa moda hype e che semo casual andiamo let's go meglio che metti in inglese lo metto in inglese lo faccio in diretta tutte le modi meglio tenerle in inglese ci penso io alt f4 una cosa che si può fare decidere il nome questo no ma io in realtà volevo davvero fare un nome serio nel senso vorrei mantenere gli inseno ok facciamo così forse è arrivato il momento ricominciare a nominare gli inseno a scienzi o ci penseremo è vero però a scienzi o a senso però non so è oppure neo inseno neo inseno neo inseno se noi lo chiamiamo così ragazzi ci facciamo inseno quinto inseno quinto inseno quinto inseno quinto ci sta il problema che se poi scopro che esiste già un inseno quinto io impazzisco inseno sesto ci sta ci sta ci sta ci sta ci sta ci sta ma l'ho installata non funziona ma non ho scaricato male la moto pesa un mega semplicemente manca la modifica credo estetica a questo punto al menu e ci si mette un istante queste cose in oh my shit non è un problema per fortuna allora new game ok 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 inseno sesto sex ok sta andando what the fuck ma non cambia nulla hanno solo cambiato i nomi sono le stesse classi se è così difficile io andrò di mago pebbles orange chart orange o merda ho bruttissime implicazioni al vedere questo anello se la mod è difficile potrebbe aver aggiunto lava nelle mappe cioè per quello che ne sappiamo devo prenderlo perché se non lo prendo finisce male dai ma questo è il fiocco di neve non è inseno inseno era il è orribile perfetto lo abbiamo madonna è perfetto eccolo siamo pronti è veramente un vero inseno beh con questo penso che i miei occhi abbiano visto abbastanza scusa no raga no non è un buon inizio cosa allo fermi con molta no 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 ma non è anche la caratteristica per usarla pezzo di me sto perdendo vita sto perdendo vita fermi increase spell damage adds additional magic slots ok amerò questa mod ma è una figata va bene e non ha il catalizzatore che uscirà dopo va bene io ma perché sono così veloce è velocissimo quale sarebbe la difficoltà scusate è velocissimo ragazzi ma il gioco è accelerato come scusa va bene ce la giochiamo come penso vogliono che sia giocata con calma con calma si è curato questa mod è una presa per il culo ma cambia ma che cazzo tutti i tempismi sono stravolte e si rigenera il boss tra l'altro si vede tutto molto bene c'è anche una scala qui vedo che non è interagibile for fucking reasons va bene weapon at risk allora qualunque altra build sarebbe ovviamente avvantaggiata qui perché avrebbe potenziamenti fisici noi siamo dei maghi noi avremo vantaggi dopo Gesù Cristo bella la resistenza al fuoco il sanguinamento non gli ha fatto niente non è vero ma ma l'arma è già rotta non credo che mi metterò a castare un c***o a velocità 2x allora in seno sesto 2 è personale adesso perriamo all'accelerazione sappiamo come creare il mostro perfetto facciamo più male con la lancia siamo in un mare di merda ragazzi ma qui si annega fino al collo vediamo come va madonna però le classi fisiche così è proprio facile ma scendere dove? ti faccio scendere io perché mi sto curando? ma ho il regen di cura ma era la classe sfigata quella prima ah beh ma è questo che cura? scendere che clown fine è fatta tutto risolto 2 secondi dopo oddio cioè intendo dire oh oh no sì aspettate che arrivo e basta allora allora io so cosa sta per succedere ok il problema sarà quando si alza ovviamente what ok stiamo molto calmi sono pronto a fare una brutta brutta figura oh gesù santissimo come cazzo faccio a fare perri accelerati era un perri perfetto siete veramente bastardi cazzo scusa bro bro lo scudo ci fa tenere le anime però è un buckler prepariamoci un secondo no vero lasciami stare non vedo nulla non vedo nulla non ho fatto non ho fatto niente pure tanto mi sciotti comunque scegli che cazzo devi fare perché io qua c'ho l'ansia vabbè no io me ne vado ti prego dimmi che almeno almeno il level up è sano ok partiamo da questo portiamo a 40 destrezza e ci teniamo le anime ok poi l'obiettivo sarà portare a 27 forza ed endurance ok io comincio a preoccuparmi punto a forza per ora tu vabbè senti oddio oddio scusa oddio no 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 che è sta roba oh no a noi non regretto niente aspetta eh ok questa è la mod più divertente che abbia giocato increase all resist curse resist soul gay ragazzi è una mod piena di molte più novità di quello che pensassi sono coinvoltissimo posso dirlo proprio non vogliono che combattiamo ma perché c'è la quest già avanzata tutto tutto completamente pazzo ragazzi ci troviamo dinanzi alla mod che non spe grazie dio questo è meglio di quello che l'ha fatto per un software mi aspettavo fosse solo esagerata difficoltà quando in realtà è super creati questo accelerato è uno spasso proprio quante anni mi potrà dare girandola se è un nemico normale da 20k non ha no 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 non potete farlo sono pronto sono pronto andiamo andiamo ho 2600 hp mi shottano e mi rompono le armi allora yolo dio no 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 è tutto sbagliato è tutto una merda qua non ce le farò sto bene bevino 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 non posso diventare umano non c'è umanità qui grazie ok io ci provo non farò quick exit perché sarebbe furberia weapon broken anche il mio orgoglio ok non mi shotterà uso lo scudo attenzione vai mamma mia lo scudo vince i bone wheel shottanti sono pronto a tutto adesso invincibile non ho armi oh 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 oddio lancia palle di fuoco perché non beve perché bevendo mi faceva tanto così di hp io devo riuscire a vedere girandola ah fanno triple palle di fuoco shottanti e mi fanno la metà del danno no no non mi hai detto dammi passare non ho mai avuto così tanta paura giocando con solo sin vita mia smettila smettila no no vai via di qui ha messo le spine ha messo le non ha messo le non ha messo questo pezzo di merda non ha messo le spine non ha messo le spine sul no 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 non ti permettere ok sono pronto a provare dio perché quando bevo dopo una fiammata ma quindi dopo il fuoco toglie le cure cazzi mi si stanno rompendo le armature io non posso riparare niente c'hai con me bro cosa ho fatto di male tu chi sei chi c***o sei tu merda mi ha visto sta cosa mi sciotta sicuro no darkbeat ma che oh mio dio questa cosa va fatta con grande attenzione allora fermi fermi come va non è possibile fammi parlare con rickard ti prego non vende gli strumenti ragazzi allora 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 ma quindi quando vengo colpito da qualcosa cioè questa mod non puoi curarti dopo che sei colpito non era il fuoco era il danno ricevuto no dai ma bro pattichiare amicizia lunga scusa cos'era quello allora allora gli ho fatto un perry e non ha sentito niente io devo vedere girandola a me non frega niente io devo vedere girandola io devo vedere girandola a me non frega niente via poisoned quello che non doveva succedere via devo schivare lui devo schivare lui ok ce la faremo ce la volevamo ok we are fucked sì vabbè ho capito pure quello dalla finestra sarà un'esperienza mistica ragazzi e porca sono finito tutto bene di vero girandola anche accelerato è una stu ti prego è abbastanza una stupidaggine sì ma è tornato l'amico vediamo eh oh no bene ok we scheletri ragazzi io non sarò non sarò sazio di questa cazzata finché non scopro che posso andare giù niente da piangere no suca suca no poi tu go oddio meriterei un premio no bello mi sto sentendo male mi sto sentendo è fatta ragazzi cioè è fatta facciamo gli uomini adulti facciamo i maestri però quello se ne sbatte completamente ora a grato me ho una sola idea ora ok vado va bene grazie andiamo chiudiamo il demonetoro almeno madonna santa dobbiamo vedere le armi che abbiamo droppato 3000 di toxic 3000 di toxic va bene poi topini figurati oddio ho ci su e beh cosa abbiamo qui scatole extra così per confondere le idee ma tutte queste scatole ah questo level design ah non è che caso che cos'è non è che cosa si un po' di tracking l'ha ordinato al dottore dove sta basta ma cazzo ci vedo benissimo che vogliono ti perdi due per 50 black fireball ok quindi ci sono anche i grave lord servant nel gioco non potete lamentarvi che io ci abbia provato ok gg potremo andare a sfruttare la vetnes per fare delle gran porcheria per esempio grazie di avermi tolto il salto cosa io io po abbiamo giocato l'augur of darkness quindi eccoci oh ce l'abbiamo fatta oh sto bene chester il roll non me lo fa fare prima si è incastrato provo a rollare ah ok e dove vuoi che vada va bene io vado potevano dare bene qualcosa è morto qualcosa è spawnato che succede o mio dio siamo tutti molto calmi eh e vabbè ho capito però ragazzi e lo sapevo che non potevo curarmi dovete fidarvi delle mie mani ragazzi guardate la fuoco no no ok ok ci ho provato ma non vedevo una sega è la stessa cacca può no havel ti prego dimmi che ci sei dimmi che c'è qualcosa di terribile ma di perriabile qui se avessimo le magie comunque potremmo fare tanta riguardo il fatto che piaccia così tanto al nostro protagonista è incredibile come è fatta arma lotta siamo in mid roll sarà divertente noi abbiamo il 30 per cento in più di difese 3000 hp e havel ci sciotta quindi ti prego fagli almeno un po' di danno se lo sconfiggiamo adesso è un colpo da maestro oddio questa era quella non venite mi a dire che hanno reso difficile il demonetoro perché non ci credo mai vediamo un po l'anello che fa aumenta la resistenza magica magic death 2000 e da otto slot magici vabbè ma questa mod è è quello che avrei fatto io al liceo se fossi stato in grado di fare mod ora mi aspetto l'incubo vieni vieni facciamo un plunging con le musiche niente più plunging sono comunque un vet ciccio cioè cioè puoi impegnarti pure quanto vuoi ma ci sono dei limiti evidenti le mani le manine le ho molto blood borniano questo concetto ma è che non mi ricordo il trucco ripeto e daxos non c'è soler la viverna c'è cosa hanno fatto non è per riabile ha impedito hanno tolto hanno tolto il fare uguale per me io dono attacco normale vabbè è uguale per me io dono attacco normale oddio al mio secondo ma ma si ripristina si è già furla armor broken tutto questa tutta questa storia è un disastro weapon broken sì ma basta rompermi tutti io non ho più armi vediamo se riusciamo a finire comprando riparando le cose da andare schippando tutto schippando la mod non so che succederà io ci provo oh no qui sono gargoyle sì tutto bene qualcosa mi ha accastato camminata pacifica ok sono salvo però dai ok andiamo go 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 via vai ciao ma non c'è zig è un dark ray wow da paura